Bentornati su SLV Production. Oggi parliamo di Henry Hoffman, il fotografo di Hitler. Porto questo fotografo all'interno di Photography Masters perché lui, più di molti altri, comprese già all'epoca la grandezza e l'importanza della fotografia al fine della propaganda politica. Adesso vi racconterò la sua storia, la sua biografia e capiremo insieme perché fu così importante per il partito nazista e per il Führer stesso. Hoffman nasce nel 1885 nella cittadina di Furt, una cittadina tedesca. Suo padre era un fotografo e possedeva uno studio fotografico nel quale il giovane Hoffman incominciò a praticare la fotografia già dalla tenera età. Nel 1909 continua a seguire le orme del padre e diventa effettivamente un fotografo e apre un suo studio fotografico e successivamente aprirà altri studi fotografici in giro per la Germania. È molto importante per notare che già dagli inizi e agli albori della sua fotografia Hoffman si avvicina alla politica e già nel 1914 sente una grande esigenza di documentare quella che era la dichiarazione di guerra della Germania, avvenuta il 2 agosto 1914 nella Odonsplatz, una delle piazze più famose e più importanti di Monaco di Baviera. Una cosa molto interessante è che questa foto legherà moltissimo Hoffman a Hitler, almeno indirettamente, nel senso che più avanti, nel 1932, quella foto verrà riutilizzata da parte dei nazisti per far propaganda di partito. Questo perché nella foto involontariamente colse un giovane Hitler partecipe di questa manifestazione. Ora però torniamo al fotografo. Hoffman nel 1919 entra a far parte di un movimento politico chiamato Guardia Civile e nel 1920 entra ufficialmente a far parte del partito nazista. È però importante notare che prima di entrare all'interno del partito nazista, nel 1919, Hoffman partecipa alla nascita della Repubblica Sovietica Bavarese, una, diciamo, rivolta che portò per un breve periodo all'istituzione appunto della Repubblica Sovietica Bavarese. La cosa però importante è quello che trasse dalle sue foto, ossia fece una raccolta di foto di questa insurrezione, le pubblicò e le pose all'interno di alcune mostre fotografiche e un certo Emil Herold andò a commentare questa mostra fotografica alludendo a una connessione tra l'essere comunisti e l'essere ebraici. Purtroppo questo chiaramente già rende idea delle nere nubi che si stavano addensando sulla Germania. Andiamo quindi al 1923. In questa data Hitler sappiamo che aveva già raggiunto una notevole notorietà all'interno del partito nazista. E che cosa succede? Succede che Hitler decide di fare il suo primo colpo di Stato proprio nella Odonsplatz. Però c'è un però, fallisce rovinosamente. E cosa ci interessa a noi sapere questa parte della storia? Ci interessa perché Hoffman partecipa a questo colpo di Stato chiamato Puz della Birreria o colpo di Stato della Birreria e sostanzialmente documenta questo colpo di Stato e riesce a trarre una narrazione completamente differente rispetto a quella che viene descritta dalla storia. Infatti le sue foto raccontano di un colpo di Stato dove Hitler voleva liberare il popolo tedesco e voleva sovvertire le sorti economiche della Germania che in quel periodo, proprio per via della sconfitta durante la Prima Guerra Mondiale stava subendo delle ripercussioni enormi. Delle ripercussioni enormi, economiche, c'era un'inflazione alle stelle e la gente non riusciva neanche a comprarsi il pane per mangiare. Hoffman documenta questo suo desiderio di sovvertire il governo tedesco come una questione eroica e lo Stato come un elemento che ha soppresso un eroe. Questo chiaramente gli dà una grande notorietà senza contare poi che Hitler una volta sconfitto venne dichiarato colpevole di tradimento, di alto tradimento e venne condannato a cinque anni di prigionia. Ne sconterà solamente uno e in questo anno di prigionia scriverà il Mein Kampf. Ma cosa ancora molto importante oltre alla scrittura del Mein Kampf è il fatto che Hoffman, probabilmente con il favore di una guardia simpatizzante per la figura di Hitler lo fece entrare con la macchina fotografica e riuscì a scattare una foto di Hitler che vi metto qui nella quale lui risulta essere fiero dove risulta essere un comandante che dalla prigione guarda fuori dalle sbarre al fine di voler tornare in Germania per aiutare il suo popolo. Uniamo quindi le notizie dei giornali del colpo di stato uniamo il fatto che Hitler era già molto noto nel partito nazista uniamo questa foto uniamo la narrazione distorta che riesce a fare Hoffman di quel colpo di stato e riusciamo bene a intendere quanto la notorietà di Hitler inizia a irradicarsi al di fuori del partito nazista e anche all'interno di tutto il popolo tedesco. Nel 1924 quindi Hitler esce di prigione 1925 adesso non ricordo e decide di nominare immediatamente proprio per questi servizi che sono stati tanto utili al suo partito a se stesso Enrico Hoffman come suo fotografo personale. Da qui nasce una grandissima amicizia tra questi due personaggi che si aiutano tra virgolette l'un l'altro infatti la visione artistica del fotografo combaciava con la mania di perfezione di Hitler. Infatti una cosa molto interessante è che Hoffman ha scattato più di 500.000 foto nella sua carriera e la stragrande maggioranza di queste foto sono foto appunto di Hitler o comunque di esponenti del partito nazista. C'è però da considerare che un'ampia fetta di queste foto riguardano proprio nello specifico Hitler e la maggioranza delle foto di cui sto parlando non sono mai state rese pubbliche. E perché? Perché Hitler ora chiaramente è una persona malvagia con una mente perversa e possiamo dirne di ogni su questo personaggio. Però c'è da dire che lui era un grandissimo oratore una persona capace di far arrivare i suoi messaggi capace di influenzare il popolo e capace di con la sua oratoria ammaliare le folle. E su questo è storia non lo dico io. La cosa interessante però è il fatto che lui si preparava tantissimo per fare questi discorsi e per farlo cosa faceva? Andava negli studi spesso di Hoffman e provava le sue pose e si faceva fotografare mentre faceva i suoi discorsi con le varie pose e vi lascio qualche foto qui per riuscire a capire se la posa che lui ha scelto fosse adatta per quel momento del discorso se la sua pausa nella sposa che ha scelto fosse adatta. Quindi sicuramente l'unione tra la capacità del fotografo di ritrarlo nel modo giusto e la capacità anche di Hitler di fare i suoi discorsi unite insieme hanno potenziato ancora di più questo suo aspetto oratorio che era già molto forte nel Führer. Ora il discorso qual è? Il discorso è che Hitler nonostante quello che ha scritto nel Mein Kampf sicuramente non possiamo dire che fosse la perfetta rappresentazione della razza ariana perché chiaramente era tutto meno che biondo con gli occhi azzurri. Cosa succede quindi? Che entra in gioco la figura nuovamente di Hoffman. Hoffman infatti va a rappresentare Hitler in pose in tre particolari pose soprattutto che lo rendono sempre fortemente capace di trasmettere un senso di potere di autorità e di rispetto a chi sta guardando le foto. E questi tre tipi di pose sono le seguenti la prima nella quale Hitler si dimostra si mostra in pubblico davanti a delle folle dal suo banco oratorio oppure in incontri con politici e quindi davanti a un pubblico quindi non è lui da solo nella foto diciamo così. Nei ritratti quindi seconda tipologia di foto si dimostra sempre in spesso e volentieri anzi nella grande maggioranza dei casi anzi sempre si dimostra con la sua tenuta militare o comunque una tenuta formale che sostanzialmente gli consente tramite il suo sguardo dritto in camera fisso in camera di dare un grande senso di autorità e incute quasi timore a chi lo guarda. Terza tipologia di foto è quella dove viene visto un Hitler invece servitore del popolo tedesco nel quale si dimostra comunque amante rispettoso del suo popolo e non come un dittatore come invece era. Una cosa molto interessante da conoscere è che all'interno dell'archivio delle foto di Hoffman furono ritrovate infatti decine di migliaia se non centinaia di migliaia di foto della vita privata di Hitler infatti Hoffman era l'unico fotografo autorizzato a ritrarre il Führer al di fuori dei contesti politici al di fuori dei contesti pubblici e la cosa interessante è che nessuna di queste foto venne mai pubblicata se non in alcune rarissime occasioni questo perché semplicemente Hitler non voleva mostrare punti di debolezza o punti o elementi di distrazione al suo popolo voleva fare in modo che le sue immagine facesse intendere che lui era la Germania e la Germania era lui e che lui non avesse una vita al di fuori della Germania stessa questo era il significato di questa strategia di immagine una cosa poi secondo me interessantissima è il fatto che Hitler passò così tanto tempo all'interno degli studi del fotografo che proprio lì conobbe Eva Brown la la Brown che è stata poi come sappiamo l'amante di Hitler è stata la sua compagna e fu assistente del fotografo per tanti anni e in questo periodo conoscerà proprio il Führer infine per concludere un attimo una panoramica su questo fotografo c'è da fare altre due considerazioni la prima è che il fotografo tramite le sue foto dei vari momenti della vita di Hitler scrisse tantissimi libri su Hitler dove va praticamente a raccontarne il suo legame col popolo tedesco e ne va a raccontare anche tutto quello che è la sua dedizione verso la Germania quindi aumentandone anche la sua notorietà anche perché Hoffman divenne un personaggio di altissimo profilo e di altissimo spicco all'interno del partito nazista e divenne anche un volto notissimo della Germania nazista per non e non di meno infatti quando la Germania venne sconfitta alla fine della seconda guerra mondiale nel 45 venne catturato imprigionato e condannato a 10 anni di carcere per essere stato un elemento di spicco del partito nazista dopo essere stato condannato morirà all'età di 72 anni nel 1957 ora come possiamo ben vedere la capacità di Hitler di essere così ammaliante verso le folle di avere un'immagine così potente e dirompente è stata soprattutto anche merito di un fotografo al suo fianco capace di raffigurarlo che fosse in un momento di alto e di salendo della sua carriera o in un momento in cui invece per esempio in prigionia stava in un periodo di crisi a raffigurarlo sempre però vincitore in un modo o nell'altro e se non vincitore è comunque vittima di un sistema che l'ha represso di conseguenza questo ha fatto sì che Hitler potesse tramite anche poi le sue capacità spiccare ancora di più all'interno della scena politica europea e soprattutto della Germania portandolo quindi poi a ottenere tutti i tra virgolette successi dal suo punto di vista che ha ottenuto e purtroppo invece per chi la storia giustamente la vede col senno del del poi i danni gli enormi danni e le tragedie che ha portato ora voglio farvi vedere due o tre foto del fotografo e voglio analizzarle con voi non tanto dal punto di vista tecnico ma più che altro dal punto di vista simbolico arrivo subito in questa immagine possiamo vedere Hitler che allunga la mano verso una bambina in questa foto possiamo notare due cose la prima è l'inquadratura che chiaramente se guardiamo la regola dei terzi come al solito giusto per sempre far vedere che nella storia i pattern si ripetono anche a livello fotografico qui c'è un terzo qua e un terzo qua sostanzialmente nell'incrocio degli assi abbiamo i due soggetti principali della foto che consente questo chiaramente di dare un grande ordine all'interno della foto una cosa poi molto importante aspettate che pulisco un attimo giusto per darvi un po' più di pulizia all'interno dell'analisi è questa il messaggio simbolico che è quello che poi interessa a me all'interno di queste foto qui vediamo un Hitler amato dal popolo perché ha una grandissima folla che lo aspetta all'interno della stazione perché è su un treno e tutti sono venuti a vedere il passaggio del loro Führer e in seconda occasione non meno importante è il fatto che anche i bambini amano Hitler e questo gli dà un senso di umanità un senso di comunque vicinanza al popolo che lo rendono quindi quasi come un fratello del popolo non come un dittatore nonostante lo fosse perché chiaramente sappiamo tutti le purga che ha fatto la repressione politica che ha fatto e tutto quanto quindi chiaramente questa foto dovrà fare un grandissimo amore del popolo una grande diciamo lealtà di chi sta vicino quindi tutti gli elementi dell'esercito e del suo popolo quindi un uomo sostenuto dall'esercito e dal popolo quindi una grande manifestazione di potere passiamo ora alla seconda foto la seconda foto che voglio mostrarvi è questa fatta sempre da Hoffman onestamente non mi ricordo in quale occasione perdonatemi magari ve lo scrivo a lato qua nello schermo ma quello che possiamo notare qui è una costrazione della foto eccezionale da parte del fotografo guardiamo ora sul piano orizzontale ok possiamo vedere infatti che sul piano orizzontale abbiamo che la bandiera nazista spicca in alto a destra nella foto Hitler è al centro soggetto principale e tutto quello che è l'esercito è sotto di lui questa foto è costruita in una maniera veramente eccezionale perché consente di dare un messaggio molto chiaro cioè il nazismo è ciò che governa la Germania ed è la Germania e sopra tutti poi Hitler è colui che comanda il popolo della Germania perché comanda l'esercito questo è il significato di questa foto e non a caso qua notiamo la maestria delle scelte delle pose di Hitler in accordo anche con Hoffman cioè questa posa di questo sguardo così aggressivo non è casuale vuole essere in questo modo per dare un senso di sovranità un senso di capacità di non aver paura di nulla un senso proprio di assoluta controllo e potere e deve incutere timore in chi lo sta guardando e questa foto ci riesce assolutamente ed è quindi molto bello sia l'analisi tecnica di questa foto nel senso che capire questa predisposizione diciamo dall'alto verso il basso della foto ma allo stesso modo anche la capacità di posa nonostante questa fosse una situazione tra virgolette non controllata perché comunque non siamo in uno studio fotografico di Hitler nell'ultima foto invece voglio riprendere la foto che vi ho già fatto vedere in precedenza del ritratto in prigionia questa foto è stata fatta sempre da Hoffman proprio ripeto in prigionia quando venne condannato per altro tradimento e questa foto mostra un giovane Hitler imprigionato dietro le sbarre molto evidenti nella foto occupano quasi metà della foto ma lo sguardo volge verso la Germania e questo chiaramente vuole essere un messaggio per chi guarda la foto del fatto che non si è arreso non si arrenderà e vuole tornare quindi uno sguardo fiero non di una persona intimorita uno sguardo però anche di una persona pensierosa per la sua Germania perché questo chiaramente è uno sguardo non severo e quasi truce come quello precedente ma è uno sguardo questo qui comunque di una persona decisa a voler tornare e pensierosa per la sua Germania spero che questo video vi sia piaciuto spero che questa storia vi abbia interessato fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate e lasciate un like mi raccomando ciao e grazie 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 a tutti.